mh? e tutti i giovani faccio quello che compagno tu, a giovani poi vado pure a fare zumba in palestra eh, beh lì, ero di fatto Pasqua, fatto pure Natale, perchè oggi però non ti piace che io compagno me eh, mi lasciate, mi piace dei figliacchi in lupo, eh, beh, ma tenete la cara e la cara eh, oh cucciolo, ma che uno e uno è sempre l'uomo che viene a fare questo cavallone, ma non sa se sono cagliati cose Antonio, sto con le sette e mezzo sotto il palazzo, si sta sguagliando tutto il trucco da mente che sto assurando, muovete perchè sennò ti spezza, muovete di me che tiene sempre un telefono la mattina, la sera a aprire, si sta ripartito, quando ti ha, non ti spugna mai eh, che cosa è andata, mamma, te lo sussi, a cagliare questo giuccio là no, io mi lascio un sombrero che è compagno di me, c'è, t'accia a pisa è inutile che circa, non ho mai trovato una pagina fresca e stimata con me, mica ti rispettavo no, Antonio, nessuno fa nozza a cagliare, stasera voglio mettere un po' di sapere, se no ti viene solo dell'ora Gianni, ma dammi i babbuzzini, ecco non mi metto il cinema a brici, guarda la sfumatura per provare solo un po' di sapere, eh eh, i sabbi sono fatti a mangiare la cassa, sono stati un colpo, e ora tu vieni a me, Antonio, io ti appena proprio è che gli scarabocci che i piedi volevano competere con me, che cazzo è rifatto, i nasi rifatti, 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 uè, io non mi metto la cassa mamma, dimensi ci hai fatto cistina d'arma fatta, manca la c***a eh, eh, è inutile che mi ripeto sempre, non sopportare il soldo, non sopportare la cassa, non sopportare, non sopportare, non sopportare, non sopportare, non sopportare mi hai capito che la tua mamma è trovata nella santa come un'ora, nella santa Antonio, tu hai mandato messaggio alle 21.04, su 56 secondi, stai online e non mi rispondo Antonio, è inutile che mi buffi i messaggi nel whatsapp, è inutile, è inutile, è inutile, è finita, basta non mi metto la domenica a mattina, voglio scendere, ti lascio da oh oh Grazie a tutti.